Era una sera d'estate. L'aria fresca mi avvolgeva come il lenzuolo protettivo di una madre per il suo bambino adorato. Persa tra i miei pensieri, notai una farfalla volare e battere le sue morbide ali intorno a me. Con fare, oserei dire, quasi romantico, si avvicina a me e si appoggia al mio orecchio destro. Come se volesse entrare dentro a dare un'occhiata. Davvero strano e fastidioso, direi. Lì per lì mi agitai, quasi disgustata e preoccupata. Beh, sì, una farfalla mi era quasi entrata nell'orecchio. Cosa sarebbe potuto accadere? Probabilmente era solo la mia immaginazione. Sembrava quasi che ci fosse davvero entrata. Dopo un po', dentro di me, si elevarono nuove emozioni, diverse da quelle precedenti. Cominciai a pensare che forse avrei avuto una trasformazione. Avevo dentro di me questo desiderio che cresceva, come se fosse quella la scintilla che mi mancava per rendere la vita più interessante di quanto in realtà non fosse. La mattina seguente, al mio risveglio, vidi la farfalla della sera seguente caduta, a terra, come morente. Mi preoccupai, pensai fossi stata io la causa. Forse non intenzionalmente l'avevo colpita con la mano quando si era avvicinata a me. La guardai per qualche minuto. Era bellissima. Le ali erano di un colore azzurro splendente, ancora più del cielo. Le venature erano di un colore che pareva essere oro puro e brillante. Non avevo mai visto una farfalla così perfetta e non capivo perché fosse entrata nella mia stanza volontariamente. E per chi avesse scelto me, a distanza di tempo, quando fusco i pensieri e le agitazioni quotidiane della vita, riesco ancora a percepire quel battito d'ali nel mio orecchio. E ogni volta diventa più piacevole ascoltarlo. È come se il battito delle sue ali andasse all'unisono col battito del mio cuore. Grazie. 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 Grazie.